Con la pubblicazione del bando prende via ufficialmente la nuova gara d'appalto per l'affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia, una procedura aperta che in linea con i servizi attualmente svolti consentirà di assicurare, con un crescendo di migliorie, la piena operatività dello scalo dell'Isola Bianca. Sostanziali le differenze rispetto al precedente bando, a partire dal valore complessivo dell'appalto che sarà di circa 13 milioni e 790 mila euro da soggettare a ribasso. La durata del contratto sarà di quattro anni con opzione di prosecuzione fino a ulteriori 12 mesi. Scelta questa mirata anche ad incentivare le società giudicatarie ad investire maggiormente sulla qualità dei servizi offerti. Tre, anche in questo caso, i lotti oggetto di gara. Il primo è riferito all'accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza. Rispetto al servizio in scadenza, che riguarda il solo porto di Olbia, sarà esteso anche allo scalo di Golfo Aranci. Il secondo e il terzo lotto, limitati al solo porto dell'Isola Bianca, riguarderanno rispettivamente il servizio a navetta, stazione marittima, nave e viceversa. L'attività di Info Point, deposito bagagli con assistenza ai passeggeri in imbarco e sbarco. I criteri di aggiudicazione della gara d'appalto puntano a premiare la qualità e l'organizzazione del servizio offerto, con particolare riferimento alle innovazioni, come nuovi pannelli per l'info mobilità e applicativi smart, che potranno essere introdotte negli scali di Olbia e Golfo Aranci. Confermata anche in questa procedura l'applicazione della clausola sociale. Nella valutazione complessiva del punteggio di gara peserà anche la qualità del piano di assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'operatore uscente. Altro criterio premiante sarà la cura al passeggero con mobilità ridotta e l'introduzione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi.